per la sesta e penultima batteria Raquel Egelli in corsia 1, Gilevra Cimarowski in 2, Aurora Dapra in 3, Emma Scomparini in 4, Moika Martini in 5, Margherita Serafini in 6, Jan Angelowski in 7, Caterina Maggiolo alla 8. Testa di serie, quindi si scende con i tempi, Vittoria Gaia Centro Vasca in corsia 4 che mantiene il vantaggio e quindi mette lei il primo riferimento di questi 50 stili ragazze, 27, 49 su Sara Flavia Stream 27, 92